Lo dovresti sapere, ogni scelta che fai potrebbe condurti a qualcosa di bello, ma anche a qualcosa di brutto. È un po' il leitmotiv di quello che è The Devil in Me, l'ultimo capitolo della Dark Picture Anthology stagione 1. Ebbene sì, nell'ultima settimana ho trascorso delle ore in compagnia della Lonit Entertainment, nella ricerca di trovare un modo per sfuggire da questo castello barra hotel della morte in The Devil in Me. Per chi non lo conoscesse, la Dark Picture Anthology è sviluppata da Super Massive Games, gli stessi di un titolo che forse avete già sentito nominare, ovvero Until Dawn, grande capolavoro uscito su PS4, che di fatto propone queste esperienze interattive, dove c'è una minima stratificazione di gameplay, ma che di fatto sono dei grandi film interattivi, belli da poter giocare da soli, ma soprattutto in coppia. Assieme infatti a tanti amici potreste passarvi il controller per scegliere ogni personaggio, oppure giocare online. Ed ecco quindi che negli ultimi quattro anni abbiamo avuto la Dark Picture Anthology, capitoli appunto a sé stanti, essendo quindi un'antologia, che trattano ovviamente come mood generale e l'horror in accezioni diverse. Abbiamo avuto Man of Medan, che personalmente non mi ha entusiasmato molto, poi Little Hope, che già alzava leggermente il tiro, House of Ashes, che si è rivelato essere un bel titoletto, molto carino e simpatico, e infine The Devil in Me. Ve lo dico fin da subito, se non vi sono piaciuti i primi capitoli di questa antologia, sappiatelo che The Devil in Me è veramente, veramente bello, cioè è proprio il migliore di questa, chiamiamola appunto, stagione. Questo perché secondo me la minaccia del gioco è concreta, cioè non c'è nulla di paranormale, come invece c'è stato nei precedenti tre capitoli. Qui la minaccia è concreta, siamo, diciamo così, nei giorni nostri, le tecnologie sono quelle nostre, non c'è nulla di futuristico, non c'è nulla di troppo passato, insomma, è tutto molto plausibile. E soprattutto, come da tradizione, c'è stata una forte ricerca verso i fatti che hanno ispirato il gioco. Infatti l'ispirazione principale sono stati i crimini commessi da H.H. Holmes, questo primo serial killer americano che aveva costruito questo letterale hotel della morte, anzi chiamato poi il castello della morte, dove appunto attirava le sue vittime per poi ucciderle all'interno di questo elaborato labirinto che altro non era che il suo stesso hotel. Muri che si potevano spostare, cambiando quindi l'ordine delle stanze e dei corridoi, stanze appunto con trappole mortali, insomma, chiunque entrava in quell'hotel purtroppo non ne usciva vivo. E non è un fatto finto, cioè è una roba vera che esiste veramente con delle documentazioni che potete trovare in gioco. Ma non solo, perché in realtà c'è anche tutta una backstory che si può trovare con alcuni documenti di altre persone che sono stati appunto poi dei serial killer. Insomma, l'avete capito, il nostro nemico è un serial killer che si ispira ovviamente ad H.H. Holmes. I protagonisti sono cinque, come negli altri capitoli, e fanno parte di questa Lonit Entertainment, un gruppo televisivo molto piccolo che è però sul punto di rottura. Devono infatti realizzare l'ultimo episodio dedicato da guarda proprio su H.H. Holmes, che però, se va bene, gli rinnovano la stagione. Se va male, cancellato. Che mi sembra un po' una lunga metafora proprio per Super Massive Games. Cioè, se gli va bene, fanno la seconda stagione, se gli va male, finisce qua. A sto giro i personaggi li ho trovati molto umani, cioè molto più veritieri. Nei precedenti capitoli, ragazzi, non so perché, ma c'era sempre quei due o tre personaggi completamente senza senso, comunque magari un po' più stupidini. Qua invece, per quanto ci siano sempre delle... eh, delle cose che non sono propriamente... è sempre poi un videogioco, è sempre una sorta di film dell'orrore, quindi ovvio che ci siano dei cliché, però li ho trovati molto più normali. Cioè, che a un certo punto parlano proprio con la concezione di dire ma che è un film dell'orrore? Non siamo mica scemi. Quindi, da una parte, c'è anche quella sorta di pseudo-intelligenza per cercare, quantomeno, di capire come fuggire da questa situazione. E già, perché se l'inizio è abbastanza lento, vi dirò, le prime due ore non ci sono in realtà potenziali scelte pericolose. è ancora molto, molto tranquillo. È dopo, secondo me, appunto queste prime due ore che poi il titolo parte a cannone, cioè nel momento in cui capiscono di essere intrappolati, diciamo così, che da lì l'azione è bella attesa. Tra l'altro, una cosa che ho apprezzato particolarmente è che questo gioco, a differenza degli altri, cambia ancora di più la sua formula di gameplay. Perché sì, non è che dovete giocare chissà quanto, però nei precedenti c'erano molte scelte, si camminava in questi corridoi molto... proprio linearissimi. Qui invece c'è un pizzico di esplorazione. Infatti potrete controllare tranquillamente il personaggio con la visuale, questa telecamera in terza persona, e addirittura avete un inventario con gli oggetti che possono essere trovati, raccolti o scambiati con altri personaggi. Ovviamente, inutile dire che alcuni oggetti nel giusto momento vi salveranno la pelle. E sì, ovviamente ci sono anche le classiche scelte divisive oppure dei dialoghi che vi permetteranno di migliorare o peggiorare i rapporti con gli altri personaggi. Nella mia run, ve lo dico, è morta soltanto una persona, mentre tutti gli altri sono riusciti ovviamente a fuggire sani e salvi. Devo dire, mi è piaciuto molto anche il fatto che gran parte poi di questo gioco è suddiviso tra esplorazione, molto comunque sia tesa, e allo stesso tempo momenti un po' a lasso. Finiremo letteralmente in queste stanze trappola dove soltanto il coraggio, l'astuzia e anche un po' una botta di fortuna ci permetteranno di salvare la nostra pelle o quantomeno ai personaggi. A volte delle scelte potrebbero sembrare pericolose ma in realtà ci salveranno, a volte invece l'opposto, essere troppo prudenti, potrebbe portarci verso l'inesorabile tragica morte. A fare da contorno alla narrazione c'è sempre lui, il nostro amico narratore che è narratore, cioè sta lì, ogni tanto vi dà anche dei consigli, quindi mi raccomando sentiteli perché sono importanti, ma insomma come sempre è un personaggio mistico che non si sa cosa ci sta a fare lì, però è là. Tra l'altro l'altra novità, sparsi per il gioco troverete degli oboli che raccolti vi permetteranno di sbloccare dei collezionabili, niente di che, però una giuntina in più. Ho giocato il titolo su PC in 2K con tutti i dettagli al massimo e girava senza alcun problema. Diciamo che se vi giravano bene quelli precedenti vi girerà bene anche questo. Anche se devo dire un plauso comunque al comparto tecnico che in certi frangenti i volti erano fatti molto bene, in altri... alcuni... Però arriviamo ad una nota dolente, il doppiaggio in italiano. Allora non è che sia brutto, perché non è brutto, però sentire la lingua originale in questo caso è tutta un'altra cosa e non perché le voci siano sbagliate, anzi ci stanno anche. Il problema è che c'è un desync pazzesco che magari verrà facciato tra il labiale e la voce in italiano. Questo perché il labiale viene fatto sulla base della lingua inglese, mentre ovviamente sull'italiano ci sono delle discrepanze molto grosse. Cioè ci sono proprio dei momenti in cui il personaggio ha la bocca chiusa e tu senti ancora loro che parlano o viceversa. Certe volte vedi che in inglese dicono delle parole con la O, quindi vedi proprio il personaggio che fa così e invece dicono tutta un'altra frase. È ovvio che non si poteva fare chissà che cosa, però non lo so, creavano un sistema per fare lip sync in italiano? Boh, non lo so, mi sembra un po' così. Tant'è infatti che dopo neanche 20 minuti ho detto mettiamo la lingua inglese e tante care cose. Quindi se non avete problemi io ve lo consiglio. Nulla che vada però a fare da discriminante alla qualità del doppiaggio che comunque è accettabile, però secondo me sta roba del The Sync mi ha dato troppo fastidio. Ovviamente non vi posso dare troppi spoiler perché se no il gioco si basa tutto sulla trama quindi non posso neanche addentrarmi troppo. L'ho portato a conclusione dopo 8 ore, ovviamente potrebbe variare in meno o in più in base a come era sciate, io ho cercato sempre di esplorare il più possibile non solo per trovare la documentazione che faceva da background anche sulla figura di questo misterioso killer che ci vuole far fuori ma allo stesso tempo anche proprio l'intero mondo di gioco perché scoprirete come è stato costruito questo tale, il perché è stato costruito, insomma. Ci sono dei dettagli che secondo me dovete assolutamente trovare per apprezzare ancora di più la trama di questo The Devil in Me. Un titolo che quindi complessivamente riesce a fare bene tutto quello che questa dark picture anthology ha iniziato piano piano ad ingranare con il suo primo capitolo di 4 anni fa. C'è molta esplorazione, i personaggi si muovono, c'è anche un po' di inventario, si percepisce la volontà di dare al giocatore più controllo dei personaggi e più controllo della narrazione. Tra l'altro ci sono pochi quick time event, nonostante io abbia giocato con la difficoltà normale, sinonimo che a sto giro conta di più la scelta logica e a volte anche di cuore piuttosto che il... Dai, premi sto bottone al tempo giusto. Carino, ci sono, ci sono anche il battito cardiaco, ci sono anche, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi, dei momenti in cui vi dovrete nascondere, cioè vi dirà proprio nasconditi. Io ad onor del vero non li ho mai falliti questi momenti e sinceramente non capirei come li potete fallire perché tipicamente quando vi appaiono queste cose siete davanti al nascondiglio, dovete premere le due e stare lì. Non lo so, cioè vorrei veramente trovare uno che inavvertitamente sbaglia perché è proprio impossibile, però anche quello è una stratificazione in più. Insomma, state attenti alle vostre scelte e create la vostra trama. Perché sì, The Devil in Me, come anche gli altri giochi, ha una propria diramazione della trama e quindi ci sono magari posti che io non ho esplorato ma che voi invece potreste scoprire nella vostra run. Personaggi che da me sono vivi da voi potrebbero essere morti. E chissà, potreste persino concludere l'avventura non lasciando vivo alcun personaggio. Un capitolo solido che chiude bene questa prima stagione e adesso, occhi puntati, verso la prossima. Per me, The Dark Picture Anthology, The Devil in Me, si prende un sonoro e tondeggiante 8. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta se fosse uscito ad Halloween, però, vabbè, ce lo facciamo comunque apprezzare anche adesso. In The Devil in Me non ci sono scelte giuste o sbagliate, ma qui, certo che ci sono. Ad esempio, guardare l'ultimo video uscito finora è una scelta giusta, oppure la playlist del Frank News per rimanere sempre aggiornati su notizie videoludiche e tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.